Via Libera ad una manovrina da 22 milioni e mezzo di euro alla Regione Puglia. Il Sì della Commissione modificherà dopo l'assenso dell'Aula i conti del bilancio pugliese per la seconda volta nel 2014. Un blitz che ha stabilito la destinazione del tesoretto inaspettato giunto da Roma. 22 milioni di IVA non sanitaria restituiti dal Ministero dello Sviluppo. Stante il divieto di spesa per il patto di stabilità, l'unica scelta possibile per la Regione è stata sul capitolo svincolato della Sanità. L'assessore Pentasuglia infatti ha assorbito ben 15 milioni dell'intera cifra. Cinque finiranno al pacchetto Gargano dove si prevede di potenziare gli ambulatori sanitari costieri, Peschici, Vieste, Rodi, Schitella, recentemente colpiti dall'alluvione. Oltre alla medicina territoriale sarà rafforzato il servizio di elisoccorso. Dieci milioni invece saranno distribuiti alle ASL regionali per acquistare macchinari e attrezzature sanitarie, soprattutto tecnologia di ultima generazione. I fondi si aggiungeranno agli aiuti europei già investiti negli anni scorsi sulla rete dell'emergenza urgenza, il 118, la terapia intensiva, i reparti di rianimazione. Il resto del tesoretto, circa 7 milioni di euro, finiranno ai fondi di riserva per le spese impreviste e obbligatorie. L'opposizione tuttavia si è astenuta ed ha espresso critiche e perplessità sulla manovra decisa al buio, senza confronto e peraltro in assenza di chiarimenti sulla distribuzione delle risorse.